Dal puro divertimento all'esplorazione estrema, il tuo riferimento è Eligio Romano Ferrino Store, via Piano Dardine 15 a Tripanda. Come dobbiamo creare un'atmosfera natalizia, ma per noi c'è Meteo Peppa. Primo dicembre, pioccano le previsioni meteo, di fare la canzone, 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 di fare la canzone. Manca ancora un mese. Quindi le previsioni meteo? Quindi le previsioni meteo mi hanno detto che oggi vi piace un po', anche nella città di lunedì saranno a tempo e venti forti da nord, accompagnano un ramo freddo e nevicano sopra le montagne. Vuoi salutare tutti i fans? Io di salutare, ce l'ho detto, Anna Maria Spagnuolo con Carmine, Anna Spagnuolo con Salvatore, anzi un saluto anche a Anna Saporita. Un saluto a Anna Saporita e la signora Rosa. Sì, è finita il Jingle Bell, se la può cantare lei? La posso cantare lei? Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell, la 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 linea allo studio.